L'imponente ondata di maltempo della scorsa settimana sulla costa Terramane ha creato non solo diversi danni ma anche mandato in tilt il sistema di reggimentazione delle acque. Il fiume che più ha sofferto è stato il Tordino che ha riversato tutta la sua portata, in particolare nel tratto del lungomare spalato a Giulianova. Provate a pensare che è venuto giù in un'ora e mezza 200 mm di pioggia, quello che solitamente viene giù in tre mesi. Io ricordo quando Tortoreto ha avuto quelle fortissime problematiche, qualche anno fa la stessa bomba d'acqua aveva più o meno la stessa intensità, la stessa durata in termini di millimetri che ha avuto Giulianova. Una condizione che, come facilmente prevedibile, ha portato il sindaco nella giornata ieri ad emettere un'ordinanza che pone il divieto di balneazione nella zona di mare che fronteggia proprio il lungomare sud. Questo soprattutto a seguito delle analisi fatte dall'Arta in data 5 settembre che hanno evidenziato la non conformità delle acque nel punto di prelievo denominato zona antistante lungomare spalato 80. Andranno a rifare i campionamenti nei prossimi giorni e sono convinto che non ci saranno problematiche di sorta. Il mare di Giulianova è un mare pulito, lo dimostrano i tantissimi anni consecutivi di bandiera blu. e l'attenzione massima che sia la Ruzzoredi, che tutti gli organi preposti, che i sindaci che si sono alternati hanno sempre dato alla massima attenzione per quanto riguarda la qualità delle nostre acque. Nel frattempo, per evitare problemi futuri, l'assessore al turismo Marco Di Carlo ha contattato la FEE, l'organizzazione internazionale non governativa che si occupa di conferire le bandiere blu, chiedendo di attendere le analisi che verranno effettuate nei prossimi giorni, prima di recepire il dato negativo che finirebbe per penalizzare la città e le sue attività. Proprio sulla bandiera blu possiamo dire che non ci saranno problemi? No, non ci saranno problemi, calcolando che quello è un tratto che da tanto tempo ha delle problematiche che stiamo tentando in ogni maniera di risolvere anche grazie al lavoro dell'assessore Di Carlo che sta veramente tentando in ogni maniera di far comprendere che il campionamento avvenuto tantissimi anni fa è un campionamento che è stato assolutamente disatteso nel corso degli anni e che quindi anche quel tratto di lungomare è un tratto sicuro dove la qualità delle acque è molto alta.